Salve a tutti e bentornati. Oggi prepariamo una bevanda molto utile per chi ha problema di disfunzione sessuale. Si tratta del cibo più ricco di antiossidanti sul pianeta. Basterebbe questo per farne il più potente alimento antinvecchiamento esistente, utile per diminuire i radicali liberi e allungare la vita. Ma oltre a questa contengono importanti percussori della dopamina, le ormoni della conquista che spinge gli uomini a lottare per ottenere ciò che desiderano. Infine, il mirtilo aiutano con la produzione dell'ossido nitrico e di conseguenza sono tra i migliori cibi per chi soffre di problemi di disfunzione sessuale. Una dieta ricca di mirtilo è un aiuto importante per ottenere importanti tranguardi sotto le lenzuole. Come si prepara? Prendi i mirtilo freschi, metti in una blenda, aggiungi qualche semi di avena, aggiungi il latte e sfrulla tutto insieme. Bevilo ogni mattina e ogni sera per 21 giorni e i risultati vi garantisco che è una bomba. Fatelo e fateci sapere! Se ancora non vi siete iscritti in questo canale, fatelo e lasciate un like sotto questo video per aiutare a crescere. Grazie! Grazie!